Bene! Porca puttana! Ci siamo ancora una volta A un'altra parte di Red Dead Redemption Ho fatto un bel po' di casino Prima di registrare La puntata Per cui ho ucciso degli innocenti Ho pagato una taglia Di 70 dollari E' uno che stava qui Correndo in Col cavallino L'ho beccato in piedi Ho perso 150 punti di onore Perciò Non ne vado fiero Intanto Immaginate se dovessi saltare col cavallo qui Quante fatte che non mi fa saltare Quindi Oh c'è un punto interrogativo Ovviamente casual Cioè questa era un'anteprima di GTA 5 Questo l'ho capito E' uscito nel 2010 Red Dead Redemption Un anno dopo GTA 4 GTA 5 3 anni dopo Cioè questa hai Uff Un anno Noi Un anno Un anno Un anno Un anno Un anno Ok Ed Marston Oh Ma si dai Ok Sarà una passeggiata Dove si è cacciato quella Che cazzo Ma che è come il meccanico Di GTA 5 che è Chiami Telefoni per la macchina E il meccanico ti porta la macchina Sto parlando naturalmente Dalla sezione online Il vero peccato che i server Di GTA 5 Su PS3 siano stati Chiusi Anche su Xbox 360 Cioè beh D'altronde non c'era più niente da fare su col gioco Certo se qualcuno Che non ci ha mai giocato Voleva Giocarsi tutte le missioni Deathmatch Ebbene altro Un tempo da passare ce l'avevo Penso che si prima Ma è una scessa cosa qua Reader Adoption Seguro Seguro Si Siamo in pazza, amico mio. Ma comunque stavo dicendo che... Non c'è più niente da fare, c'è un mero da parte mia. Si serve di GTA V. Ma intanto... Se qualcuno ci sta giocando per PS4 o superiore... Lì si che ci avrà parecchio da fare. Eccoci qua, ad armadillo, mi sembra. Cosa? Oh, certo. Ok. Me ne ricorderò. Forse. Tanto il tuo figlio se la caperà da sola. Il tuo figlio se la dovrà capare da sola. Noi, guarda, l'aggressione eh eh. 40 doll... 80 dollari di vivo e 40 morti. Bene. Un scalero. Ok. Andiamo, dai. 40 dollari morto. Il doppio se viene preso lì. Ma sì, andiamo a prenderlo. Noi, non sa da tanta lontà. No, non lo faccio. che mi sta vedendo son no mi sto mi cano io ando vai con la collina 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 forza 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 comunque lo giuro se dovessi avere cioè io non ho la cosa modificata se dovessi avere il gtm4 porterò direttamente il gameplay il 5 no non ho assolutamente voglia di cominciare tutto la capo troppo log e tu come fai a sapere il mio nome? no è stata una ragazza, un dutch vanderlind, scusata nel cuore della ferie un po' anni fa la stessa che hai scusata, una bella ragazza, fino a che la sua occhia era con una tendone, e la sua cervezza è scusata a una città non è vero quindi perché mi ricordi a me, amico? hai scusato di più importanti persone che mi cosa è il tuo gioco, amico? non ho il gioco, John E che cazzo vuoi da me? Assolutamente no, è adulto Non credo sia vaccinato Ma scusa, non lo puoi buttare da qua Non lo puoi buttare da qua Vediamo un attimo No, scherzavo, scherzavo Scherzavo perché ho detto che la scritta è diventata rossa Il testo È diventato rosso un improvviso Oh mio dio Ha un'imboscata Diciamo Non ci sono mica silenziatori Oh mio dio Qua ci saranno Tallacca, ti prendo in Oh no No Chè siamo alla piscata dai Oh no Oh no Oh no C'è, andiamolo Un attimo, lo stava fuggendo, un attimo Cosa? Quissà Cosa? 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 Cosa, questo fuggendo, incontro. Cosa, un attimo. piume di falco cos'è qua? eeeh andiamo aspetta cos'è andiamo eeeh andiamo altissimo eeeh andiamo eeeh andiamo ok ok 4 dollari cristo lei cosa ci compri con 4 dollari oggi? nemmeno 3 dollari il coltello è sempre pulito alla fine, com'è sta storia? c'è ma ma un po' di un po' di attenzione, cioè guarda il coltello adesso mentre sta tagliando e poi cos'è? pulito una tasca non so se lo metti in tasca benissimo squagliati beh andiamola non mi dire che ci sarà di nuovo missione della ricercata che quindi la devo rifare da capo va meglio tutto questo pezzo di strada sono parecchio annoiato per fare sta scelta cioè dai buttati giù appunto dai 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 Cinghiale Carne di cinghiale Wow Poi sempre tutto sporco, wow Carne di cinghiale, pelle di cinghiale Tutto pulito, dal coltello ai vestiti Eh, ciuf ciuf è partito Oh, scusa, mi cavallino Oh, mica fatto apposta, è l'abitudine Non è quello di speronarti, di premere sempre il tasto Per andare più veloce C'è, cazzo Andiamo a vedere se lì c'è di nuovo Ecco Che cazzo gioco è questo Non so che cavolo, ho premuto per giocare, vediamo un attimo Non mi riega barcelo di ferro perché non ci credo Cos'è? Ma sì 4 dollari, dai Non c'è C'è? E tu non avessi un po' Oh, mio Dio Ma che che Oh no c'è il tempo Ce l'ha fatta Ho vinto questo round Sì ma lui lo fa veloce Ma va Mio dio Aia C'è veramente uno ci può cascare Non è impressionato Gioca alle cinque dita Non ci devo riprovare C'è dai no 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 ti butto dieci dollari Oh no Ha cambiato il tasto bastardo di merda No Oh dio che figato Ma c***o Ma ma No dai non è giusto Dai non è giusto No non è giusto Cioè io l'avevo premuto No no lo devo vincere No ci 10 dollari Massimo Vabbè dai Vabbè dai Vabbè dai Testa di c***o Testa di c***o Ma se rie... Lo devo premere velocemente Ho capito Ma non troppo veloce No mi sono confuso Dai non è giusto Ma che c***o Ma che c***o Ma che c***o Ma se le... Ma ci provo l'ultima volta e basta Cioè ma veramente Ok Prima è andato Mamma mia Com'è tempo scaduto È possibile No dai L'ultimo Mi mancava l'ultimo Brutto Brutto strozzo di... Brutto strozzo di... Ma ta 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 C***o Ffffff Allora Monee's down mister Mottava 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 Sì Non vi ho visto che è venuto Dove essere più veloce di quello C***o Fammi vedere dai Mottava 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 Ciao Dov'è quello? Dov'è quello? Mi sto portando lo strozzo addosso così Cioè vaffanculo va Crash lì per terra vaffanculo Cioè vabbè abbiamo capito Vabbè ok ragazzi Penso qui la parte Ci vediamo alla prossima Ciao